Sono con noi questa sera! Rosario Trefiletti, Feder Consumatori, frase calde, i furbetti del cartellino vanno licenziati subito, peggior nemico i politici arroganti che se ne fregano dei consumatori, sogno proibito, scoprire che il PD è tornato ad essere davvero di sinistra. La legge sul licenziamento degli assenteisti, c'è già, l'abbiamo visto, 4 a Sanremo sono già stati licenziati, però Renzi ha detto che vuole fare anche questa cosa a Trefiletti, voglio dire, è proprio a volte demagogia pura. Sì, è demagogia pura, io però lo dico francamente, sono ancora un pochino più cattivo, nel senso che chi va a timbrare in mutande lascia il posto di lavoro a un giovane, questo assolutamente. E poi però, ecco perché sono un pochino più cattivo, io contestualmente, perché questa è un'Italia in cui nessuno si assume le responsabilità, le verifiche, i controlli, i dirigenti, perché hanno permesso questo? Quindi due licenziamenti, il mutandato è quello che permette questo.